Torna puntuale anche quest'anno il premio Verdicchio d'Oro, organizzato dal comune di Staffolo in provincia di Ancona, con la collaborazione dell'Accademia Italiana della Cucina, quella dei Giorgiofili sezione centro-est ed il patrocinio del Consiglio regionale. Appuntamento il 12 e 13 ottobre alla Collegiata di San Francesco, per due giornate dedicate a un'eccellenza del nostro patrimonio enogastronomico, con diversi momenti di approfondimento, come il convegno di domenica sulle sofisticazioni alimentari. Il premio sarà consegnato quest'anno al prefetto di Ancona, Antonio D'Acunto, al presidente nazionale del Movimento Turismo del Vino, Nicola D'Auria, e al prorettore dell'Università Politecnica delle Marche, Gianluca Gregori. I premiati sono stati scelti da una giuria composta dal delegato regionale dell'Accademia Italiana della Cucina, Sandro Marani, dal presidente della sezione dell'Accademia dei Giorgiofili, Natale Frega, e dal sindaco di Staffolo, Sauro Ragni. Il filo conduttore innanzitutto è il nostro prodotto principe, che è il verdicchio. Quest'anno il titolo è legato alle frodi agroalimentari, perché secondo me riteniamo opportuno che ci sia anche una cultura su quello che riguarda il discorso della coltivazione della vita e dei prodotti alimentari. E' un territorio come il nostro, che è principalmente dedicato a queste tipiche attività e prodotti, la dice la sua anche per l'attaccamento, la tradizione e la motivazione che hanno i nostri tantissimi produttori, ma più di tutti anche sia le amministrazioni comunali, sia la nostra che da Boccanza è stata eletta, ma anche quelle che mi hanno preceduto. D'altronde 54 anni sta per oltre mezzo secolo di storia e questo sta a significare che è un premio all'altezza della sua portata, ma che trasmette secondo me, principalmente in questi momenti in cui viviamo di tante incertezze, un momento di tranquillità, di certezza di un territorio e della sua valorizzazione. D'altronde Staffolo è conosciuto per il verdicchio.